Formidabile Nescafè, autentico caffè solubile Un cucchiaino di Nescafè nella tazza Un po' d'acqua calda Semplicissimo, non occorre altro per il mio caffè Formidabile, che buon caffè Facile, rapido, buono E' conveniente, una scatola dura così a lungo Provatelo anche con latte Nescafè è caffè al 100% Nescafè è il buon caffè già pronto